Però prima di entrare nel dettaglio vorrei parlare un attimo di me, perché molti mi stanno guardando in questo momento, alcune persone non mi conoscono e quindi ha senso farvi capire perché sono qua il giorno d'oggi a parlare e perché sono qua a portarvi questo messaggio qua e perché sono qua senza voler chiedere nulla in cambio. Io sono Thomas Macorridge, sono molto giovane, ho 22 anni, circa 4 anni fa possiamo dire, ho iniziato quello che è stato il mio percorso nel cambiare la mia vita, ok? Vediamola così. Sembra tanto uno di quei video dei guru online che vedete, forse lo è o forse no, tra poco lo scoprirete. Tornando a noi, ho iniziato qualche anno fa con delle semplici compravendite online, ok? Famiglia normalissima, non famiglia ricca, famiglia di dipendenti normali, 1500 euro al mese di stipendio, la famiglia più comune che voi potete immaginare. Ho iniziato, il motivo per il quale ho iniziato è molto semplice, perché avevo fatto un giorno di lavoro, possiamo chiamarlo, comune, da dipendente, e dopo un singolo giorno ho detto, io non voglio fare questo, non so, mi era scappato qualcosa nella mia testa, non lo so come, non lo so perché. E da lì, con qualche centinaia di euro che avevo, abbiamo iniziato io assieme a un mio ex socio, possiamo chiamarlo, con delle compravendite online, compravamo, vendevamo, vestiti, abbigliamento, di tutto online per fare un po' di profitto. Sicuramente le cose non funzionavano, facevamo un po' di soldi però, voglio dire, la sostanza era nulla. Però comunque avevo modo di arrivare a poter reinvestire un minimo di soldi in quella che era, possiamo chiamare, l'attività che facevamo. Da lì tutto è cambiato quando ho compiuto 18 anni, ho provato qualsiasi tipo di cosa, ho fatto il venditore, facevo siti web per le aziende, qualsiasi tipo di cosa però che usciva da quello che era il lavoro tradizionale. Da lì ho scoperto quello che era il mondo dell'e-commerce, ovvero vendere prodotti online, in particolar modo il dropshipping, non sono qua oggi a parlare di dropshipping, non c'entra assolutamente nulla per farvi capire quella che è stata la mia storia. Intento fare i primi soldi così, attraverso l'e-commerce, ve la faccio veloce perché sennò siamo qua a parlare mezz'ora di me, per non ha senso. Intento fare i primi soldi col dropshipping, mi sono trasferito a Dubai prima dei miei 19 anni, ero molto molto giovane, chi mi segue da 3-4 anni ha visto tutto quello che è stato il mio percorso, ha visto che quando ero a Dubai all'inizio facevo solo e-commerce, non facevo altro e dopo con il tempo, durante il primo periodo a Dubai, mi sono dedicato a quello che è l'insegnamento appunto del mondo legato all'e-commerce. Quindi corsi, consulenze e sono stato uno delle prime persone in Italia, uno dei primi famosi guru, tutti quelli che vedete ormai ovunque al giorno d'oggi. Quando ho iniziato io non c'era nessuno, era semplicemente un qualcosa per, non so, un parte mi piaceva, in parte mi faceva guadagnare qualcosa in più rispetto a quello che già facevo da tempo qua a Dubai, ovvero l'e-commerce. Però da lì la cosa è stata presa molto seriamente, comunque la mia immagine è letteralmente esplosa, perlomeno in quella che era la nicchia del business online, eccetera, eccetera. Ho fatto un sacco di soldi attraverso corsi, consulenze e con il tempo tutto questo mi ha portato ad accrescere quella che era la mia visibilità, perlomeno in questa nicchia, non sono la persona più famosa al mondo, ok, però nella nicchia dei business online, degli imprenditori online, eccetera, sono una persona abbastanza conosciuta e questo mi ha aiutato molto a trovare molto facilmente delle risorse, delle figure nel tempo esperte in determinati settori. Così nel tempo ho iniziato ad investire in quello che è il mondo delle cripto, ho iniziato a diversificare quelli che erano i business, al giorno d'oggi lavoriamo su YouTube, facciamo e-commerce, facciamo affiliate marketing, abbiamo tanti front-men in diverse nicchie che vendono informazioni. Quindi da lì sono nate tutta un'altra serie di business che al giorno d'oggi mi portano, possiamo dire, tanti soldi per l'età che ho. Al giorno d'oggi ho 22 anni, non so se ve l'ho già detto prima, e faccio tanti soldi, ok, la media che abbiamo adesso e che ho io personalmente adesso è sui 300 mila euro netti al mese, ok, sono tanti soldi, non sono risultati raggiungibili a chiunque e li ho raggiunti per il semplice fatto, non perché sono più furbo, intelligente, no, per il semplice fatto che mi sono messo sotto in maniera malata per due anni, chiuso in casa a lavorare veramente tanto. Ho avuto sicuramente un compizzico di fortuna, non sono partito da sotto un ponte, non ero una famiglia ricca, però voglio dire, avevo un tetto sotto la testa, avevo da mangiare ogni giorno, quindi di fatto non avevo grosse responsabilità, come ad esempio una persona che magari ha 35 anni, ha due figli, una moglie può avere. Quindi sicuramente sono partito da facilitare sotto certi punti di vista, ma non ero ricco, ok, e al giorno d'oggi facciamo tanti tanti soldi, facciamo perché intendo io assieme alla mia azienda siamo oltre 30 persone al giorno d'oggi, facciamo un sacco di soldi. E quindi oggi sono qua per dirvi determinate cose senza, come vi dicevo prima, senza chiedere nulla in cambio, perché sono arrivato a un certo livello per il quale i soldi non hanno più significato. Potrei fermarmi ora e vivere tutta la mia vita senza dover lavorare un singolo giorno, ok? Chi mi conosce da tempo sa quelli che sono i nostri numeri, chissà da quanto tempo li facciamo, soprattutto, e nel momento in cui fate, ragazzi, ma molto banalmente, io dico banalmente perché sono numeri che ho raggiunto tempo fa, 30.000 euro netti al mese, avete qualche milione in banca, ragazzi, potete vivere tutta la vita senza alcun tipo di problema. Ovviamente io ho altri tipi di obiettivi e uno di questi sono qua a dirvelo oggi, ovvero il fatto di portare un qualcosa in più a tutte le persone che mi stanno guardando, tutte le persone che mi seguono, perché posso per la prima volta fregarmene di quello che è l'aspetto economico, perché per molto tempo ho venduto informazioni, ho venduto corsi, consulenze, al giorno d'oggi posso assolutamente fregarmene e portarvi determinate cose, determinate verità senza alcun tipo di censura, dicendo le cose come stanno, fregandomene se mi cancellano i video, gli account, che cavolo me ne frega, ok? Perché di fatto siamo davanti ad un periodo storico molto brutto, in poche persone se ne rendono conto, tra poco andiamo ad analizzare tutta una serie di cose che alcuni di voi troveranno interessanti, alcuni di voi troveranno paurose, spaventose, eccetera. Però ci troviamo in una situazione in cui, ma lo state vedendo benissimo, io non vivo in Italia, quindi la vivete molto di più voi rispetto a me, i prezzi che aumentano, il fatto che, parliamo magari di questo già uno, due, tre anni fa, non so quanto tempo sia passato, però il fatto che non potevate viaggiare, prendere la macchina per andare al funerale di vostro padre senza dovervi farvi iniettare una sostanza sconosciuta sotto la pelle, il fatto che tutte queste cose qua hanno un altro tipo di scopo, il fatto che la società non gliene frega assolutamente nulla, lo Stato non gliene frega assolutamente nulla della vostra salute, il fatto che voi siate bene, tra poco lo capiremo, e sta arrivando un periodo molto brutto, a seguito a quelli che sono stati gli ultimi due anni, tre anni possiamo dire, assieme al periodo attuale in cui fare dei soldi è stato molto facile per certe persone, sta diventando sempre più difficile per le stesse persone, sta diventando praticamente impossibile da qua nel giro di un anno, due anni, quello che è. Quello che abbiamo visto negli ultimi due anni possiamo dire, assieme a tutta questa pandemia e tutte queste cose qua, è stata una separazione enorme e in poche se ne sono resi conto, nessuno ovviamente ne parla, sui telegiornali, figuriamoci ragazzi, non ne parleranno mai. Date a vedervi i numeri, separazione tra ricchi e poveri, enorme.